Sabino Maria Frassà, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E benvenuto, anzi bentornato, qui nel nostro podcast del Posto delle Parole per farci incontrare oggi, in questi dieci minuti di parole, la poesia visiva di Martha Abbott. Dobbiamo dire che quando raccontiamo di poesia, aggiungendo l'aggettivo visiva, aggiungiamo cose, ma entriamo in un'essenza molto particolare, parlando di Martha Abbott ed insieme a noi Sabino Maria Frassà che tante volte ci ha raccontato l'arte e ancora oggi ci racconta l'arte visto che dell'arte grande conoscente e oltretutto essendo anche critico d'arte ha, per così dire, le mani in pasta. Sabino Maria Frassà, chi è Martha Abbott? Martha Abbott è una giovane artista circoamericana che da alcuni anni ha deciso di vivere in Italia e a Roma ed è un'artista che ha fatto dell'inchiostro, quindi della materia alla base della scrittura, il proprio strumento espressivo. La cosa particolare è che l'inchiostro se lo crea da sola e quindi è quasi una ricerca alchemica oltre che visiva ed è molto bello e interessante studiare un'artista che ha trasformato uno strumento di scrittura in opera d'arte che poi forse è la stessa cosa. Che poi l'opera d'arte comincia ancora, spero di non sbagliare, ancora prima del gesto sul foglio, creando l'inchiostro. Verissimo, è proprio questa la particolarità e poi lo crea da degli elementi naturali che possiamo trovare tutti noi. Dietro c'è una lunghissima ricerca fatta a livello internazionale, Martha pubblicato, libri all'estero, in un piccolo laboratorio nel cuore di Roma le raccoglie dalle ghiande, ai fiori e con questi segreti alchemici che sono passati di mano in mano riesce a produrre questi inchiostri che sono poi la sua tavolozza. E prima di approdare alla nuvola vorrei ricordare uno degli appuntamenti principali della carriera artistica di Martha Abbott, ovvero il progetto Cramo. Sì, Martha, noi l'abbiamo incontrata perché è arrivata seconda nell'ultima edizione del Premio Cramo l'anno scorso a Milano e ha veramente colpito la sua capacità di avere questa immagine onirica fatta con l'inchiostro senza la penna e quindi abbiamo poi deciso di accompagnarla in una mostra a Roma ed oggi insieme a Morella e Cescon ripresentarla in questa fiera perché poi il nostro obiettivo è sostenerla e far crescere l'artista ovviamente anche con il riconoscimento del mercato. Certo, perché il riconoscimento del mercato è non dico è un obiettivo ma è un passaggio importante anche per sottolineare la valenza, l'importanza e il valore e il valore anche di un'opera d'arte o di opere d'arte. Entriamo adesso nella mostra che si potrà vedere nella nuvola straordinaria opera già di per sé la nuvola di Fuxas ecco, che cosa racconterà Marta Abbott nella nuvola a Roma? Marta Abbott nella nuvola porta quattro opere che di fatto sono come un satellite della mostra da Gaggenau in realtà il tema che accomuna tutte le opere quindi mostra in queste due sedie a Roma è Moon Garden ovvero ha voluto analizzare tutti quei fiori che si aprono di notte per indagare un po' la bellezza nascosta che c'è nel nostro vivere quindi in realtà noi ci troviamo di fronte a delle opere quasi astratte ma basate sull'idea del fiore notturno del fiore segreto è un po' forse il tema stesso della ricerca di Marta Abbott ovvero la ricerca di tutta la bellezza che c'è nelle piccole cose intorno a noi perché le stesse, ripetiamo, fa un inchiostro a partire da oggetti ed elementi naturali che noi spesso ignoriamo o trascuriamo ma molte volte calpestiamo Sabino Maria Fressa il fiore che si apre di notte e che spesse volte noi non possiamo vedere per una serie di ragioni potrebbe anche rappresentare quello che non è così facilmente visibile quello che per certi aspetti è nascosto e noi non possiamo permetterci di vederlo alcune volte e Marta Abbott ce lo pone di fronte agli occhi quell'invisibile notturno Verissimo, è proprio questo l'obiettivo e forse anche un obiettivo che io mi permetto di dire c'è in tanta arte contemporanea lei proprio come un garden l'ha voluto esplicitare quindi alla base non c'è un inchiostro fatto di fiori a volte sì ma addirittura la cosa che appassiona molto è che lei usa il fiore come tampone e come pennello perciò noi vediamo un'opera che fa attraverso i fiori e questo ci dovrebbe permettere in questa armonia che lei compone sempre molto onirica di riflettere sulla bellezza che c'è intorno a noi ripeto, l'importante è riuscire a vedere la bellezza nel nostro mondo e non vedere sempre l'aspetto negativo quindi è una dei pochissimi artisti che in questo momento così complesso a livello storico e sociale vuole vedere una speranza e la ritrae nelle sue opere e in questo momento così buio parliamo di luce perché ritrarre il fiore di notte deve per forza esserci quantomeno un frammento di luce e da dove arriva? arriva dalla capacità di tornare a fare le cose di concentrarsi e fare da sola Marta Abba è una persona che ha girato il mondo poi ha fatto famiglia a Roma ed è una persona che sebbene creda molto nell'amicizia, nel contesto sociale a un certo punto ha detto ricomincio da me ricomincio dalla mia capacità di saper fare io e di non delegare più qualcun altro quindi è questo empowerment questa capacità di una donna che si fa da sola e che non aspetta di essere aiutata che paradossalmente ha ritrovato in sé la forza la capacità anche di fare una ricerca lunghissima di perseverare e di arrivare a un risultato non solo commerciale ma prima di tutto artistico e questo coraggio secondo me si basa su una grande fiducia in se stessi e quindi anche su chi sia di fianco e direi anche spero di non sbagliarmi ancora prima una ricerca introspettiva che ha generato e poi sviluppato tutto questo gesto artistico per forza assolutamente questa capacità di ritrovare in sé le forze credo che sia frutto di un esercizio di anni quasi zen non a caso è una persona che si fa molto all'arte orientale e molto serafica come persona che non vuol dire che non veda le cose semplicemente riesce ad astimilarle io dico sempre che come lei usa tutte le elementi naturali che intorno a sé lei astimila la realtà e la vita per andare avanti per guardarla sempre con un sorriso e tutto questo come è attraversato dalla parola poesia? Martha Abbott spesso le ho chiesto in merito a questa armonia noi di fronte alle sopre troviamo sempre dei colori acquarellati questi inchiostri non sono mai righe precise né urtanti e Martha Abbott dice che la poesia banalmente è la nostra esistenza che tutto quello che c'è nell'area così etereo è poesia e di nuovo lei dice gli occhi devono vedere la poesia piuttosto che le cose brutte quindi è una sorta noi diremmo di filtro di Instagram lei riesce ad applicare nel suo mondo il bello e a farcelo vedere e ricordiamo la mostra personale di Martha Abbott a cura di Sabino Maria Frassà è aperta fino al 22 dicembre nello spazio Gagnon Design Elementi a Roma e parallelamente a questo Martha Abbott come abbiamo detto all'inizio di questa conversazione partecipa a Roma Arte in Nuvola ovvero la nuvola ci riferiamo ovviamente alla nuvola di Fuxas quali sono Sabino Maria Frassà i nuovi progetti perché ogni volta che ci sentiamo c'è sempre qualche cosa che viene lanciato per il futuro beh per il futuro ne stiamo lavorando ovviamente alla nuova edizione del premio Cramon quindi Martha è arrivata a seconda la precedente e a gennaio ci sarà la decima edizione quindi un traguardo importante per tutti che si terrà in una collezione privata a Busto Artizio e l'importante è proprio questo perché un premio si nutre del successo degli artisti che vi hanno partecipato quindi come abbiamo accompagnato Martha e altri artisti Stefano Cescon un po' per tutto il mondo ora siamo alla ricerca di nuovi artisti nuovi successi da sostenere nel prossimo futuro e prima di chiudere vorrei ricordare sempre Roma Arte in Nuvola che Sabino e Maria Frassà insieme con Carolina Conforti direttori di queste di queste presenze importanti per quanto riguarda l'arte ma non solo e per l'appunto a Roma Arte in Nuvola ci sarà Martha Abbott insieme con Stefano Cescon e Fulvio Morella esatto proprio l'idea di sostenere l'arte come hai detto tu giustamente anche nel mercato Cramo non ha mai questo obiettivo ma il riconoscimento del lavoro il poter dire a un giovane artista di vivere anche del proprio lavoro è un risultato quasi banale nel resto del mondo ma in Italia è una battaglia che si combatte ogni giorno quindi ringrazio molto Carolina Conforti di darci questa possibilità in una fiera importante come quella di Roma e prima di salutarci come sempre Sabino e Maria Frassà qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Rimaniamo in tema ed è un bellissimo volume di Marina Formica Roma-Rome una capitale in età moderna perché Roma è una città strepitosa in tutte le epoche ho sentito la necessità a livello storico e storiografico di approfondirla meglio perché molte volte noi italiani non ci rendiamo conto della bellezza e dell'importanza del contesto in cui viviamo e il libro Roma-Rome una capitale in età moderna è pubblicato è pubblicato dalla terza l'autrice e Marina Formica grazie davvero Sabino e Maria Frassà e buon lavoro con Marte grazie a tutti voi buona Roma grazie grazie